ISL è un prodotto, un progetto che non nasce negli ultimi mesi, ma grazie alla visione di una persona visionaria, anche se sembra una ripetizione, ovvero di Kostin Grigorishin, è un qualcosa che è stato realizzato in tanti anni e che è stata sperimentata partendo da un livello giovanile prima e poi arrivando anche al test pilot che abbiamo svolto nel 2017 a Roma, portando per la prima volta a confrontarsi non singoli atleti, che è il format normale del nuoto, ma portando dei club, quindi dei gruppi, dei team, confrontarsi a due giorni di nuoto. Perché si è pensato che il nuoto potesse aggiungere una sorta di extra gamba al tavolo esistente? Conosciamo tutti cosa vuol dire il nuoto, la popolarità del nuoto a livello mondiale, i numeri coinvolti, sia a livello di spettatori, partecipanti, interesse che il nuoto scatena tutte le volte che si arriva ai grandi eventi, però abbiamo notato che nel nuoto mancava uno forse degli aspetti più importanti nello sport moderno, ovvero la competizione tra team, la competizione tra squadre. Conosciamo tutti i successi che hanno le grandi leghe, ovvero gli sport americani, tutti basati sul concetto di squadra, dal baseball all'hockey, futuro all'americano, ma lo vediamo anche nella nostra Europa. Le grandi manifestazioni per club sono sempre oggetto di grande entusiasmo e interesse, dal calcio alla palla canestro, alla palla a volo, alla palla a mano. Quello che noi riteniamo all'interno della International Swimming League è che aggiungere al presente nuoto, un nuoto fatto di team, di competizioni quindi non individuali, ma di competizioni fatte tra squadre, dove non è importante solo il tempo, ma principalmente è capire in maniera immediata chi vince, cioè chi tocca per primo porta punti alla sua squadra, fa vincere la sua squadra. Quindi riuscire a creare chi ci vede dal vivo e chi ci vede da casa, davanti alla televisione o davanti al computer, un messaggio molto semplice, chi tocca per primo vince e di conseguenza vince la sua squadra. Quindi portare un concetto che è comune in tutti gli sport, un concetto vincente e riteniamo che adesso sia il caso di iniziare a sviluppare una serie di club a livello mondiale che possano confrontarsi in corso dell'anno, quindi non in un'unica soluzione, ma in mesi, sul modello dei classici competizioni a squadre, per poi alla fine dell'anno avere la squadra che di fatto si laureerà la più forte del mondo e creare in questo modo una forte correlazione tra tifosi dal vivo, tifosi a casa, comunità, atleti, coach e con tutta una serie poi di altri aspetti che dopo andremo a analizzare nel dettaglio, ma in particolare di nuovo il concetto di portare nel nuoto il concetto di team sport. Il nuoto diventa quindi qualcosa di diverso, qualcosa che non si è visto fino adesso, inserito in un format molto diverso, molto più accattivante, molto più televisivo. Il nuoto che viene presentato all'interno di un contenitore che ha alti momenti di show, che porta al pubblico di nuovo dal vivo e da casa sempre molto coinvolto, senza pause, senza momenti che possono portare il famoso zeppi in televisivo, ma un qualcosa che abbia adrenalina, passione, incertezza, imprevedibilità, passione e partecipazione popolare. Sappiamo che quando ci sono squadre tutti si identificano nella propria squadra, tutti diventano tifosi della propria squadra, quindi portare la grande massa di audience televisiva a, come posso dire, in qualche modo a diventare tifosi di nuoto, non più seguendo il singolo atleta che comunque rimane protagonista, ma seguendo la propria squadra del cuore, la squadra della propria città, della propria regione, che di fatto va a confrontarsi con le migliori squadre al mondo. Per noi allenatori la Lega offre una grande prospettiva, innanzitutto ci obbliga a dover ripensare in qualche modo il nuoto nel quale siamo cresciuti. Preparare un atleta che partecipa alla Lega vuol dire di fatto dover evolverci come allenatori, essere in grado di preparare un atleta che sia in grado di performare non solo una volta all'anno, cosa che non esiste più in nessuno sport. Ormai in tutti gli sport di successo gli atleti sono in grado di avere sempre una performance di alto livello, lo vediamo in tutti gli sport. Poi certo ci può essere il picco stagionale, ma comunque noi vediamo i calciatori tutte le settimane in televisione, i giocatori di pallacanesto tutte le settimane in televisione, addirittura due volte alla settimana. Questa è la prima cosa che noi allenatori dobbiamo capire nel nuoto. Se vogliamo che il nostro sport sia più popolare dobbiamo diventare abili per portare i nostri atleti a performare più volte, durante i mesi, sempre ad alto livello, in gare anche che possono essere non le gare principali dei nostri atleti, perché dobbiamo riuscire a creare ai nostri atleti la capacità di essere fisicamente e soprattutto mentalmente pronti a performare in ogni condizione meteorologica, di stress, di attesa, di presenza di pubblico e quant'altro. Che vantaggi però noi possiamo avere noi allenatori come categoria dalla Lega? Beh, la Lega innanzitutto permette lo sviluppo del nuoto in maniera orizzontale, crea nuove opportunità di lavoro, crea nuovi club, crea nuove competizioni, crea un'esposizione mediatica molto più importante perché il nuoto sarà più presente sulle televisioni, sui media internazionali, dà la possibilità ai nuovi allenatori anche di giocare un ruolo diverso. Fino adesso noi siamo stati sempre visti come coloro che erano fondamentali fino al giorno prima della gara, all'interno delle nostre piscine, queste sorti di laboratorio di performance, ma poi il giorno della gara la performance era affidata completamente all'atleta e noi ci sedavamo in tribuna, col cronometro o meno, a fare il tifo per i nostri atleti. Nel concetto e nel forma della Lega, dove l'allenatore svolge un po' il ruolo che ha l'head coach nel football americano, cioè è veramente l'head coach, è colui che oltre che allenare fisiologicamente, i suoi atleti deve prepararli psicologicamente e deve, siccome parliamo sempre di dual match, di fatto ogni squadra incontra un'altra squadra in un confronto a punti, deve essere in grado di capire in quel momento, in quella giornata, in quella gara, qual è l'atleta migliore del suo roster che può dare il miglior risultato per la sua squadra. Quindi diventa anche uno stratega, non più solo un allenatore di corpi, ma un allenatore di menti e un grandissimo motivatore. E questo per noi è una bellissima opportunità, perché ci permette, forse anche a noi come categoria, di avere una considerazione che fino ad oggi non abbiamo avuto. È inutile negare che i più importanti allenatori di nuoto, che sono assolutamente straordinari nella loro qualità di lavoro, non hanno la popolarità e non hanno avuto il successo che meritavano, se li paragoniamo appunto gli allenatori di football americano, di calcio e di basket. Probabilmente questo è dovuto anche al fatto che fino ad oggi abbiamo avuto uno sport poco promozionato, che probabilmente ha avuto un format non completamente di facile comprensione per le grandi masse, e nel quale comunque l'allenatore, di nuovo, aveva un ruolo abbastanza in ombra al giorno della gara. Ad oggi il giorno della gara diventa il momento più importante dell'allenatore, non è più il momento in cui l'allenatore fa un passo indietro e lascia tutto il palcoscenico all'atleta, ma diventa il momento in cui l'allenatore con le sue scelte può condizionare fortemente l'esito della sua squadra, il punteggio della sua squadra e quindi aiutare o purtroppo danneggiare, come in tutti gli altri sport, il risultato della sua squadra. Non ci dimentichiamo una cosa, nel nuoto, almeno nel nuoto che io conosco, l'istituto dell'esonero non esiste, cioè spesso nel nuoto si inizia ad allenare un club, una federazione e si rimane quasi a tempo indeterminato. Questo da un lato forse ci rende sereni, ci tranquillizza, però al contempo non motiva noi a crescere, soprattutto forse non permette anche che ci sia una competizione ancora più forte nella nostra categoria, di una sana competizione che possa portare anche benefici economici che fino ad oggi probabilmente non sono arrivati, o quantomeno non sono arrivati sparsi in tutto il mondo, a parte alcune nicchie di eccellenza. Se vogliamo diventare anche noi tecnici di riferimento, come sono i tecnici i nostri colleghi degli altri sport, e penso non abbiamo nulla di meno rispetto a loro, dobbiamo forse anche noi fare un passo in avanti, dimostrare al mondo di essere moderni, di aver capito che il nuoto ha bisogno di una nuova figura di allenatore e in qualche modo puoi pretendere che i nostri diritti vengano riconosciuti. È chiaro che questo modello nuovo, questo nuovo format, questo nuovo sport alla fine, perché possiamo avere anche un po' l'arroganza di pensare che il nuoto in questo modo diventi qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi, ci sia una sorta di evoluzione. Comporta un lavoro diverso, un lavoro anche sicuramente ancora maggiore per la categoria degli allenatori e dei stessi atleti. Non dobbiamo dimenticare che il nuoto è uno degli sport non solo più complicati, dove tutto è basato sulla performance, sulla differenza di decimi, alcune volte addirittura centesimi, e dove però l'impegno che viene richiesto quotidianamente a tutte e due le categorie allenatori e nuotatori è incredibile, straordinario. Pochissimi sono gli sport dove la preparazione è così importante dal punto di vista della quantità di ore dedicate in tutti i suoi aspetti a creare la performance. Fino ad oggi appunto si è creata una performance su un appuntamento. Con la Lega, con l'International Swimming League, si punta viceversa a una sorta di spalmare gli appuntamenti del nuoto su più tappe, più momenti. Abbiamo detto cosa comporterà per un allenatore a livello di nuovo impegno, ma che cosa anche avremo come vantaggi. Vantaggi quali saranno? Beh, innanzitutto che si vedrà nuoto più spesso in televisione. Questo è fondamentale. Gli sport per avere successo devono, ma tutti i prodotti, in questo caso se vogliamo diventare un prodotto anche televisivo, dobbiamo riuscire ad andare in televisione. Andare in televisione in prime time, andare in televisione in continuità, nel weekend, durante la settimana, portare l'abitudine del consumatore abituale a vedere il nuotatore in televisione come vede il calciatore, come vede il giocatore di pallacanestro, di pallavolo. Dobbiamo rendere i visi degli atleti e degli allenatori popolari. Se vogliamo riuscire a portare i media ad interessarci a noi, avere i media interessati al nuotatore e ovviamente in maniera secondaria allenatore tutto l'anno, non solo nell'anno delle Olimpiadi, non solo nell'anno dei Mondiali, dobbiamo fare in modo che di nuoto si parli sempre. Per parlare sempre di nuoto, dobbiamo fare in modo che i nuotatori siano spesso a gareggiare, ad alto livello e questo comporta ovviamente se c'è un aumento dell'interesse dei media, ci sarà un aumento dell'interesse degli sponsor e se ci sarà un aumento dell'interesse degli sponsor, come conseguenza ci sarà anche un aumento delle rendite e diciamo dei vantaggi economici per le due categorie. Inoltre la Lega, questa non è un'area di mia competenza, ma ha comunque dall'inizio puntato su una distribuzione degli utili che preveda una distribuzione egualitaria. I protagonisti della Lega sono i nuotatori, sono le catture degli allenatori, cioè sono i protagonisti principali. La Lega non esiste se non ci sono i nuotatori, se non ci sono gli allenatori. Questo cosa vuol dire? Che anche nella distribuzione degli utili, queste due componenti fondamentali verranno considerate prioritarie e non sussidiarie o secondarie nella divisione appunto degli utili prodotti della Lega stessa. Allora, di fronte a noi abbiamo anni sicuramente grandi sfide. È un progetto lungimirante, anche visionario, nella concezione positiva della parola di visionario. Ci saranno sicuramente delle difficoltà, non lo possiamo escludere. Tutti i progetti che nascono, partendo di fatto da un'idea così innovativa, avranno degli up and down. Siamo pronti per questo. È però fondamentale che ci sia da parte della comunità del mondo del nuoto una comprensione di questo prodotto che si aggiunge al nuoto esistente, non lo sostituisce. Non c'è nessuna volontà di andare a sostituire con International Swimming League il presente nuoto. C'è la volontà di aggiungere un prodotto nuoto esistente per aiutare un'esposizione maggiore e per portare il nuoto a diventare nel giro di pochi anni uno sport non solo amato, e lo sappiamo che lo è già molto praticato, lo sappiamo che è già molto praticato, ma uno sport che abbia una grande audience, un grande successo, che diventi uno sport trendy. In questo momento nuoto, lo dobbiamo riconoscere, non ha i livelli di popolarità che hanno il calcio, che hanno il basket e che hanno altri due o tre sport. Il potenziale c'è, probabilmente una competizione per squadre può essere quell'ultimo step che manca al nuoto per diventare un fenomeno mediatico di livello mondiale e portare quindi a tutte le componenti del nuoto, nel caso specifico allenatori e nuotatori che sono le componenti di cui mi occupo io, i vantaggi giusti e che meritano entrambe le componenti.